Pronti? 3, 2, 1, via! Non ti girare di spalle, però, Aldo, eh? Bravo, Aldo, sfilare quel braccio, via! Dai, 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 sfilalo, bravo, bravo, Aldo, va bene! Abbraccialo, abbraccialo, Aldo, ok, perfetto, perfetto! Ora ribaltarlo, Aldo! Sì, Aldo! Sì! E la vigniana con le gambe! Sì! Alvigni con tutte le gambe! Forza, Aldo! Ribattarlo anche indietro, eh, Aldo? Allora è su, allora è su! Ok, non deve stare fermo! Dai, 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 dai!